salve cari amici del canale grande risveglio ecco a voi un breve ma rincuorante messaggio di Vilma Tintella messaggera del maestro Saint Germain buon ascolto a tutti messaggio di Saint Germain di Vilma Tintella 20 giugno 2024 in nome della mia magna presenza di Dio voglio darvi un piccolo messaggio a tutti coloro che attendono il grande dono dell'amato maestro Saint Germain a coloro che sono stati fedeli alla luce di Dio il punto che voglio sottolineare è il seguente QFS ovvero sistema finanziario quantistico è un grande sistema che viene installato in ogni paese e potete immaginare che non sia una cosa che verrà installata da un giorno all'altro il grande computer quantistico madre è già installato tutto a suo tempo e spazio abbiate grande fede e speranza perché è già una realtà che gli oscuri non potranno più interferire con il fatto che diventi una realtà qui e ora quest'anno amati fratelli non dite parole scortesi per il grande progetto dell'amato maestro Saint Germain che ha lavorato e si è preoccupato tanto per tanti anni di dare all'umanità tutto ciò che è stato tolto a tutti in quella vecchia era che abbiamo superato siate ottimisti e abbiate grande fede che ognuno riceverà la sua ricompensa per essere coeredi del creatore non disperate verrete tutti avvisati dal vostro cellulare i mentori verranno nelle vostre case affinché siate istruiti su questo grande dono che sta arrivando ricordatevi di essere armoniosi e sorridenti perché saremo tutti felici pieni di abbondanza e prosperità dimenticate la tristezza la malattia la mancanza di lavoro e di salute perché tutto è nell'ordine divino grazie amati fratelli e sorelle per la vostra pazienza e il vostro maestro di luce viola vilma tintel in azione costante congratulazioni a tutti è arrivato il momento di essere felici vilma tintel grazie traduzione voce marina grazie a tutti Grazie a tutti.